Ci sono anche tre iniziative piacentine nel bando regionale di 33 progetti totali ai quali andranno complessivamente 190.000 euro stanziati dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna per dare l'opportunità a 4.000 giovani di studiare i luoghi di dolore e di orrore della storia del Novecento, dal grigio dei muri di Auschwitz al silenzio delle foie beistriane. È l'obiettivo dei viaggi della memoria, le attività didattiche e culturali che coinvolgono scuole, istituti storici e associazioni per conoscere eventi come la Shoah, la Seconda Guerra Mondiale, le travagliate storie di confini per coltivare il valore della memoria inteso non solo come ricordo ma come consapevolezza che dimenticandosi delle tragedie vissute si corre il rischio di riviverle. Ai progetti piacentini andranno 21.250 euro. In partenza il 28 marzo prossimo il viaggio della memoria piacentino farà rotta su Vienna per poi visitare i campi di concentramento di Mauthausen e di Gusen. Il viaggio sarà preceduto da incontri di preparazione e dalla restituzione delle esperienze da parte di studenti e docenti il 10 maggio prossimo.